Non solo prevenzione e repressione dei reati per la Polizia di Stato, ma anche soccorso. A dimostrarlo questa volta è stata la Polizia Stradale di Taranto impegnata in un delicato intervento per recapitare a tempo di record un farmaco salvavita a un paziente ricoverato all'ospedale di Altamura per una intossicazione da botulino. Il medicinale era disponibile solo all'ospedale della Marina Militare di Taranto e per fare in modo che arrivasse la prima possibile a destinazione, è stata interessata appunto la Polizia Stradale Tarantina. La centrale operativa della Polstrada ha coordinato il lavoro degli equipaggi del distaccamento di Manduria e della sottosezione di Palagiano, che alla confine della provincia, sull'autostrada Taranto-Bologna, hanno consegnato il plico ai colleghi del compartimento di Bari. Alla fine, obiettivo centrato, il farmaco è stato consegnato all'ospedale di Altamura e somministrato al paziente intossicato grazie a un'operazione sincronizzata durata poco meno di un'ora.